via 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 e sti cazzo tu sai che sei il gallo del pollaio veramente sembra che fa brutto andiamogli a sfidarla non fa più galletto a hamburghese adesso pre pieto ma non mangia il gallo ma è incastrato nero un giorno dopo che ne lasciano un po' ecco guarda che ne sono le uova? e sti cazzo allahu akbar aspetta tre uova tre uova non metto quel pezzo lì no non metto niente li taglio tutti faccio la parca puttana tutta pata le galline nooo vedete lì vedete lì vedete lì eh vado via vado via circondiamole facciamo andare dentro dai cazzo è tipo un greggio di pecore tutti seguono il primo dentro su bambini dentro dentro dai gallo porca puttana guarda che c'è un tizio pietro guarda che arriva dai dentro 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 che devo andare a studiare eh eh però se lo chiudi fuori pet pet tranquillo tranquillo non ti agitare non ti agitare ti apro ti apro entra entra bravo adesso tu eh ciao ma che cazzo stai facendo? vuoi stare sul campo vai vai prendila sono fuori forma sono allegati boh entra tutte dentro come una? come una? dov'è? come una? come una? eh cazzo 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 dai brutta rinco eeeeeee dentro dentro dai dentro ecco entrata No ca... A posto... A posto...